Bene, iniziamo con il quesito numero 1 di questo test. Quale oggetto metallico contiene meno atomi? Abbiamo 4 oggetti e tutti e 4 pesano 1 grammo. E quindi si tratta di metalli, di elementi chimici diversi. Li possiamo trovare sulla tavola periodica, quindi questi elementi. E lo zinco, l'argento, l'alluminio e il ferro. Se tutti pesano 1 grammo, significa che il peso dei loro atomi sommati insieme fanno 1 grammo. E se per fare 1 grammo ci vogliono più o meno atomi, dipende da quanto sono pesanti o leggeri gli atomi. Chiaramente se gli atomi sono più leggeri, per arrivare a 1 grammo ne occorreranno di più. Se sono più pesanti, ne occorreranno di meno per arrivare a 1 grammo. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è cercare i 4 valori dei pesi atomici di zinco, argento, alluminio e ferro. Allora, vediamo per esempio che lo zinco, il primo della serie, pesa 65,37 unità di massa atomica, l'argento ne pesa 108 praticamente, l'alluminio 27, il ferro quasi 56. Quindi il più pesante è evidentemente l'atomo di argento, l'argento pesa quasi il doppio del ferro. Quindi, insomma, per fare 1 grammo di argento basterà un numero minore di atomi di argento rispetto agli altri, quindi scegliamo l'argento. Andiamo al quesito numero 2, che riguarda, ancora una volta, il numero di atomi. I numeri di atomi, come sappiamo, si contano non uno per uno, ma in moli, dove il numero di unità, atomi o molecole o qualsiasi altra cosa, di una mole, che corrisponde a una mole, è 600, 2214 miliardi di miliardi. Quindi circa 600 miliardi di miliardi arrotondando, anzi, 600 mila miliardi di miliardi arrotondando. Se qui abbiamo non una mole, ma 0,001 moli, significa che abbiamo un millesimo di moli, perché questo 1 è la cifra dei millesimi. Quindi un millesimo di mole o una millimole è la stessa cosa, e noi dobbiamo trovare qualcosa che invece è diverso da un millesimo di mole. Poi, se esprimiamo questo numero in notazione esponenziale, sappiamo che è 6, circa 6,0 per 10 alla 23, il numero di unità in una mole. 6 per 10 alla 23, se prendiamo un millesimo di questo numero di atomi, dobbiamo dividere per mille, quindi dobbiamo dividere per 10 alla 3, e il 10 alla 23 diventa un 10 alla 20. Quindi, questo esponente qui, 10 alla 20, 6 per 10 alla 20, è ancora una volta una millimole. Ma allora, se questo è una millimole, non può essere una millimole quest'altro, che è 10 volte più grande, perché è 10 alla 21. Comunque, controlliamo anche gli altri. Quindi, questa è la risposta corretta. Controlliamo le altre. Per esempio, non è diversa da un millesimo di mole, nemmeno l'ultima, perché abbiamo 10 alla 21, ma abbiamo 0,60, quindi la parte esponenziale è 10 volte più grande, ma la parte pre-esponenziale è 10 volte più piccola. Quindi, questo numero qua sotto è uguale a questo numero qua, in realtà, cioè un millesimo di mole. Poi abbiamo 600 miliardi di miliardi, da cui, praticamente, è stato tolto il mila, perché il numero di unità in una mole, detto anche il numero di Avogadro, è 600 mila miliardi di miliardi. Se togliamo il mila, significa che stiamo prendendo anche qui una millimole, cioè un millesimo di mole. Quindi, l'unica quantità che non è un millesimo di mole è la seconda. Vediamo ora l'esercizio numero 3. Quanti sono gli atomi in 270 grammi di alluminio? Come ben sappiamo, per trovare il numero di atomi, il numero di oggetti, qualsiasi, bisogna dividere il quantitativo totale in grammi per il peso di quell'unità, in questo caso per il peso di un atomo di alluminio. Siccome il peso atomico o massa atomica relativa all'alluminio è 27, praticamente sarebbe 26,98, quindi, con tre cifre significative, possiamo arrotondare a 27,0, e quindi la divisione di 270 diviso 27 ci dà 10. Chiaramente, in una quantità così grande di alluminio, un pezzo di alluminio che teniamo in mano e sentiamo un certo peso, insomma, non possono esserci soltanto 10 atomi, perché 270 diviso 27 fa 10. Quindi, non possiamo scegliere questa risposta, perché il numero di atomi non è così piccolo. Il numero di atomi, infatti, che otteniamo da quella divisione è in moli, quindi il 10 lo troviamo anche qui, sicuramente non sono grammi, perché se i grammi sono 270, non possono essere anche 10 grammi. E la domanda ci sta richiedendo gli atomi e noi abbiamo fatto di tutto per trovare gli atomi, cioè abbiamo diviso il peso totale per il peso di un atom. Con quelle unità di misura noi ci troviamo direttamente il numero di atomi in moli, in questo numero gigantesco che è 600 mila miliardi di miliardi per 10, quindi siamo arrivati a 6 milioni di miliardi di atomi che sono presenti in 270 grammi di alluminio, quindi 10 mol. Passiamo adesso alla domanda numero 6. Bene, il problema ci chiede in che proporzione e in massa si combinano l'elemento zinco e l'elemento cloro nel composto, cioè a formare il composto ZnCl2. e quindi noi abbiamo la formula di questo composto. Ci vengono proposti 5 possibili rapporti e l'unica maniera è trovare quello giusto. Allora, iniziamo a cercare i pesi atomici dello zinco e del cloro nella tavola periodica e quindi abbiamo che per lo zinco l'atomo pesa 65,37 unità di massa relative, mentre un atomo di cloro pesa 35,45 unità. Questi sono i pesi relativi. Quindi, se queste sono le masse atomiche o pesi atomici e nel nostro composto abbiamo formula ZnCl2, questo significa che ogni unità minima di questo composto conterrà un atomo di zinco e due atomi di cloro. Ora, per trovare la proporzione tra zinco e cloro, cioè il rapporto tra la massa dello zinco e la massa del cloro, dobbiamo tenere presente che lo stesso rapporto che c'è tra le quantità di questi due elementi nell'unità minima che vediamo qui, questa unità minima, lo stesso rapporto che c'è all'interno di questa unità minima tra tutto lo zinco diviso tutto il cloro, dovrà esserci anche per due unità minime, tre unità minime, mille unità minime, un miliardo di unità minime per qualunque quantità di questa sostanza. Quindi, si ripeteranno sempre gli stessi pesi atomici dello zinco e due volte i pesi atomici del cloro. Quindi, possiamo scrivere che il valore di questo rapporto lo possiamo rappresentare qui. il rapporto che c'è nell'unità minima andrà bene per qualsiasi campione di questa sostanza. Quindi, prendiamo l'atomo di zinco che sappiamo che pesa 65,37 e lo dividiamo questo peso per quello di due atomi di cloro. Ciascuno dei quali pesa 35,45 unità. qualunque saranno le unità se saranno chilogrammi, grammi o once o libere o qualsiasi altra cosa il rapporto sarà sempre lo stesso. Sempre lo stesso rapporto perché è privo di dimensioni e quindi è sempre lo stesso qualunque saranno le unità di misura che prenderemo. Quindi, non resta che calcolare il rapporto la divisione 65,37 diviso 35,45 per 2 e questo ci dà 65,37 diviso 70,90 che fa 0,922 quindi complessivamente un atomo di zinco da solo arriva a pesare quasi come i due atomi di cloro se fossero stati uguali il peso dello zinco e di due atomi di cloro avremmo avuto un rapporto unitario invece abbiamo 0,9 che non è tanto lontano. Questo rapporto quindi ci dà anche la massa in grammi di zinco per ogni grammo di cloro i grammi di zinco su grammo di cloro vediamo che l'opzione 0,922 c'è tra le nostre scelte e la scegliamo passiamo ora all'esercizio numero 8 dobbiamo trovare il rapporto tra le masse di rame che nei due composti CuCl2 e CuCl in questi due cloruri di rame che abbiamo visto in laboratorio si combinano con un grammo di cloro quindi il grammo di cloro è sempre lo stesso ma cambiano i composti che lo contengono in uno ci sarà un po' più rame e in uno un po' meno rame e dobbiamo trovare il rapporto tra il rame che è presente nel primo cioè in CuCl2 che già a occhio vediamo che dovrà essere un po' di meno visto che c'è un atomo di rame solo per due atomi di cloro mentre nel secondo abbiamo un atomo di rame per ogni atomo di cloro quindi la quantità di rame deve essere maggiore nel secondo quindi dobbiamo dividere una quantità di rame per una quantità di rame più grande e quindi dovremo ottenere un rapporto minore di 1 vediamo anche il suggerimento per trovare quanti grammi di rame si combinano con un grammo di cloro dovremmo trovare la massa di rame per esempio in percentuale la percentuale del rame diviso la percentuale del cloro e avremo così percentuale in peso questo rapporto e la stessa cosa per l'altro composto la percentuale di rame nel secondo composto che è quello verde diviso la percentuale di cloro nel composto verde e troveremo il rapporto nel composto che contiene un po' più rame andiamo a dividere il primo rapporto e il secondo rapporto cioè i grammi di rame contenuti per grammo di cloro nel cloruro di rame marrone diviso i grammi di rame per grammo di cloro nel cloruro di rame verde ma non dobbiamo fare tutti questi calcoli il suggerimento ci dice che non occorre nemmeno calcolare le masse percentuali niente basta vedere il rapporto tra atomi di rame a parità di atomi di cloro allora come faccio a mettermi a parità di atomi di cloro se nel primo composto ce ne sono due e nel secondo ce n'è uno solo è semplice raddoppio la formula molecolare del secondo composto quindi se questa è la situazione noi abbiamo che nel cloro di rame verde per ogni unità ci sono un atomo di cloro per ogni atomo di rame mentre nell'altro ce ne sono due di atomi di cloro per ogni atomo di rame quindi per mettermi a parità di cloro basta che io raddoppio senza cambiare la composizione perché il rapporto rimane sempre lo stesso se raddoppio sia il rame che il cloro quindi ora io sto a parità di cloro scrivo i due composti uno sotto l'altro per vedere meglio fare questa comparazione quindi vedo che a parità di atomi di cloro io ho il doppio del rame nel secondo composto quindi ora devo fare il rapporto tra gli atomi di rame nel primo composto diviso gli atomi di rame nel secondo composto e ottengo quindi questa situazione un atomo di rame per ogni due atomi di cloro nel primo composto diviso due atomi di rame per ogni atomo di per ogni due atomi di cloro nel secondo composto il risultato di questa divisione è in qualunque unità di misura se i tre atomi di rame sono uguali è un mezzo quindi il rapporto è uno a due nel composto verde c'è nel composto verde c'è il doppio di rame a parità di cloro rispetto al composto marrone quindi la soluzione che devo scegliere è senz'altro questa abbiamo ora la domanda numero il quesito numero 10 quanti grammi di fluoruro di potassio si ottengono mettendo a reagire 50 grammi di potassio e 50 grammi di fluoro questo forse è il quesito più difficile di tutto il test abbiamo fatto qualche esempio vediamo di ragionare in diverse maniere possibili prima prendiamo una via di ragionamento intuitiva intuitiva cioè se noi potessimo far reagire tutto il potassio con tutto il fluoro otterremmo un massimo di 100 grammi quindi il valore 100 grammi qua sotto è sicuramente il valore massimo che potremmo ottenere sarebbe impossibile ottenere più di 100 grammi mettendo a reagire 100 grammi di roba quindi possiamo escludere purtroppo solo una domanda con questa linea di ragionamento che è quella più in alto però abbiamo anche un'altra informazione possiamo escludere comunque qualcos'altro se 50 grammi di potassio si combineranno con un po' di fluoro o viceversa 50 grammi di fluoro si combineranno con un po' di potassio comunque quello che otterremo sarà una quantità di fluoruro di potassio sicuramente superiore a 50 grammi se i grammi rimangono 50 a parte che nessuna scelta contiene 50 grammi significherebbe che non si sono combinati quindi dobbiamo scartare tutto ciò che sta al di sotto dei 50 grammi quindi scartiamo anche quella di 38 allora rimangono quella da 58 o quella da 74 sì perché la 100 è impossibile dobbiamo spiegare perché è impossibile che reagiscano tutti i grammi perché dalla formula vediamo che c'è la formula 1 di potassio un atomo di potassio si combina con un atomo di fluoro soltanto se gli atomi di potassio e fluoro pesassero uguali e avessero la stessa massa allora nei 50 grammi di potassio e nei 50 grammi di fluoro ci sarebbe lo stesso numero di atomi e quindi si potrebbe formare un ben preciso numero di unità di Kf di fluoruro di potassio e per cui tutti gli atomi si combinerebbero e non avanzerebbe niente né fluoro né potassio ma purtroppo le cose non stanno così un atomo di potassio pesa 39,10 la massa relativa e un atomo di fluoro pesa 19 quindi ben diversa la massa dell'uno e dell'altro diciamo che approssimativamente un atomo di potassio pesa il doppio di un atomo di fluoro quindi non è possibile che nei 50 grammi di potassio e di fluoro ci sia lo stesso numero di atomi gli atomi di fluoro sono circa il doppio degli atomi di potassio quindi quando mettiamo a reagire queste due quantità dovrà esserci un certo numero di atomi di fluoro che non potranno combinarsi tutti gli atomi di fluoro in più il numero minore di atomi è quello di potassio che si trova nei 50 grammi di potassio quindi possiamo andare a vedere che ci saranno nel composto tutti e 50 i grammi del potassio mentre del fluoro ce ne sarà un numero di atomi uguale a quello che si trova nei 50 grammi di potassio quindi per risolvere questo problema dobbiamo calcolare quanti atomi in moli ci sono nei 50 grammi di potassio e vediamo che dobbiamo fare una divisione 50 diviso 39,1 quindi vediamo che il peso di un atomo di potassio è 39,1 e vediamo che il risultato di questa divisione è 1,278 e questi sono non chiaramente un atomo ma sono 1,278 mol di atomo mol di atomo avremmo potuto fare lo stesso calcolo fin dall'inizio senza andare a ipotizzare a scartare alcune delle opzioni diciamo quindi avremmo potuto risolvere lo stesso problema anche senza opzioni dunque adesso che conosciamo gli atomi di potassio siccome la formula di questa sostanza è Kf cioè K1F1 questo significa che il numero di atomi di fluoro non in 50 grammi ma il numero di atomi di fluoro che si combineranno con i 50 grammi di potassio deve essere esattamente lo stesso numero stesso numero di atomi di potassio e di fluoro quindi devono essere 1,278 moli di atomi di fluoro e si tratta adesso di vedere il peso di queste di questo numero di atomi di fluoro basta fare l'operazione opposta alla precedente abbiamo fatto la divisione quindi adesso moltiplichiamo il questo numero di atomi 1,278 per il peso atomico il peso di ciascun atomo di fluoro che è 19,00 e quello che otterremo sarà il peso in grammi la massa in grammi della quantità di fluoro combinata 24,30 con 4 cifre significative arrotondato grammi di fluoro quindi questa è la parte di fluoro che si riesce a combinare perché contiene lo stesso numero di atomi di potassio allora andiamo a vedere quanto composto si formerà questo composto sarà il risultato della combinazione di 50 grammi di potassio che abbiamo visto contengono 1,278 modi di atomi più 24,30 grammi di fluoro che contengono ugualmente lo stesso numero di atomi cioè 1,278 moli il risultato la somma la possiamo fare facilmente a mente è 74,30 prima di andare a vedere se c'è la risposta di questa massa di fluoruro di potassio ottenuta di 74,30 grammi facciamo un'ultima considerazione cioè che cosa avremmo fatto se non ci fossero state le opzioni del problema a scelta multipla avremmo dovuto confrontare questi due rapporti 50 grammi di potassio diviso la massa atomica del potassio 39,1 confrontare questo numero di atomi con il numero di atomi messo a reagire di fluoro 50 grammi di fluoro i grammi sono uguali ma il numero di atomi no perché dividendo per 19 qui abbiamo un numero maggiore quindi il risultato di questo confronto è che questo numero a destra è un numero di atomi nettamente maggiore del numero a sinistra se noi dobbiamo combinare un atomo con un atomo tutti gli atomi di potassio si combineranno mentre questi atomi qua non si combinano tutti diciamo sono in eccesso se ne possono combinare solo una quantità che è uguale a quella a quella degli atomi di potassio torniamo dunque al dato del problema e vediamo che tra le opzioni in effetti c'è il nostro 74,30 c'è uno dei due che erano compresi tra 50 e 100 grammi e questo è tutto